Musica Allora oggi sono qua in rappresentanza dell'ARSAC che è l'azienda regionale per lo sviluppo dell'agricoltura calabrese che è partner di questo progetto. Nel seminario di presentazione del progetto di cui è capofila l'azienda Allasia Plant praticamente in questo seminario introduttivo io affronterò la problematica legata alla multifunzionalità delle aziende agricole perché comunque questo tipo di attività fatta all'interno delle aziende agricole rientra in quella che si chiama diversificazione delle attività agricole e rientra nel più vasto scenario che è quello della multifunzionalità cioè le aziende agricole che non offrono più soltanto prodotti agricoli ma che differenziano e diversificano l'attività all'interno dell'azienda offrendo anche servizi al territorio. È un modo nuovo di fare agricoltura che in qualche modo si è avviato già da oltre un ventennio ma è un ruolo importante anche alla luce dei programmi e delle finalità della PAC quindi della politica agricola comunitaria. L'azienda che si apre al territorio, l'azienda che apre le sue porte e crea reti soprattutto, crea collaborazioni con le istituzioni in questo caso soprattutto con le istituzioni scolastiche quindi con le agenzie educative ma comunque si realizzano partenariati con i comuni con altri enti o organismi presenti sul territorio tutti con la finalità di valorizzare le risorse del territorio indirizzarle verso uno sviluppo sostenibile e rispettoso dell'ambiente. Grazie a tutti. Grazie a tutti.